Andiamo un po', ho fatto una bellissima mossa eh ragazzi Non potevo fare di più con le situazioni in cui ero Tanto faccio i complimenti d'utente che sto giocando davvero molto bene Sia in fase diciamo offensiva che difensiva Perché guardate come si difende bene e riesce ad essere grande Ma lo sentite un po' anche offensiva perché è riuscito a essere molto bravo nel faro Aspetta tu sei qualcuno di me? No? Ok? Ragazzi addirittura devo fare così, pensate un po' a voi Allontanatevi ragazzi, anche gli altri comunque bravissimo Utente, avete visto come è anche bravo ad attaccare Bravissimo veramente Poi anche far spiltare la gente se non sbagliare a lui prima Tento anti, cavati via Chi è quello? Gini di 9.9, come di me? Tanto lo saluto Che bello avere la squadra, è capitanare una squadra Se è bel figo farlo con Skype ripeto Più che con Skype con TeamSpeak Andrebbe molto meglio e non infrangiamo le privacy Ok vedo un Vedo una bella cosa Lì ragazzi se mi ci ficco Siamo messi bene Se mi riunisco e mi ci ficco Siamo messi bene Però mi serve proprio aiuti qua Tanti aiuti Cosa ha fatto quell'altro? Aiutatemi raga Tanto saluto Gianluca Di nuovo Via da qua Gianluca Via da qua Via da qua Eccolo Ok Ok Va bene Non posso far di più Allora ho paura che se uno mangia l'altro Sono primo Sono primo Non tanto adesso scusate Sono primo Sono primo E se qualcuno prova a lanciarmi masse Io me ne vado immediatamente Perché questi vi proveranno a lanciarmi masse Quindi devo allontanarmi Comunque ragazzi sono primo E secondo è Gabriele 019 Secondo ragazzi È nostro Compagno E c'è anche utente 019 Nella top 10 Guardate Siamo fortissimi No agar così diventa divertentissimo Chi è quello? Aspetta Come ti chiami? Ale Ale 019 Siamo fortissimi raga Andiamo addosso Andiamo addosso Andiamo addosso Andiamo addosso Gabriele ancora a seconda Noi siamo primi Vi do anche SmileTube 019 Ottavo Poi c'era anche Un altro decimo Adesso non ho fatto tempo A leggere il nome Siamo fortissimi raga Qui c'è potenziale Per farne anche 3-4 di parti Oppure devo tagliare Molto bene No devo mangiare No mi è venuto addosso Non potevo fare di più NASA Luigi Ciao Luigi Luigi 019 Ecco Seimon 019 Era decimo Grazie Luigi E siamo ancora primi E vorrei tanto vedere Gabriele Tanto vorrei vedere Chi è questo? Valerione Eccolo qua Aiutare tanto utente Non posso fare più di così Tu cosa vuoi dare La mia massa? Però aiutatemi anche voi Perché adesso vi ho dato La massa Ora me la ridai Vero l'utente Mamma anti Che rischio Ridamme l'utente Utente Devi ridarmi la massa Utente Grazie mille Bravissimo Ci siamo capiti al volo Allora Sinceramente È rischioso stare vicino Le palline verdi Qui Tanto grazie Anti È rischioso Perché qualcuno Potrebbe sempre farti Gli scherzetti Tu chi sei? Comunque Una cosa bella È che quando vedo Disegnini Vuol dire che non siete voi Perché nessun disegnino Si fa Facendo 0.9 Intanto vedo Smentuba Abbastanza grande Dennis Ciao Dennis Che era quello D'inizio partita Che sarà stato In un'altra parte Ancora Lì ho visto Artù C'è Artù 0.9 Ringrazio ancora Anti per l'aiuto Qui siamo un po' In mezzo a un camominato Tanto assoluto anche Yo-Yo O Gio-Gio Non so Non so se qualcuno No ragazzi Non potete fare così Perché mi tocca Suicidarmi Altrimenti Ragazzi No Devo Devo mangiarti Anti O devo andare su Però mi spiace un po' Vabbè Anti Non assaggio che andò Troppo bene Devo dirti la verità Secondo Mi ha superato Sha Ragazzi Bisogna tornare A essere grandi Terzi addirittura Terzi addirittura Io ragazzi Vi dico la verità Ho fame Devo mangiare qualcuno Anti Vieni qua Piuttosto di rimandarti Qualcun altro Devi vieni Anti Non capisci Porca miseria Anti Devi vieni Fatti mangiare da me Piuttosto che Andare Mamma mia Anti Sei un po' Una target Però Ti fai mangiare da qualcun altro Adesso E ciao ciao Vieni qua È come se mi fidassi Ecco Ecco Ti ho mangiato Smeltup Sono chiuso Praticamente Un po' da voi Devo assolutamente Trovare quel Sha E mangiarselo Ragazzi Valerione Devo mangiarti Se fai così Devo venire di qua Ok Saluto Matteo Rid Mamma mia Che rischi Andate via da qua Ragazzi Vi state circondate Smeltup A destra 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 Grazie Ale Non fidarmi da lì Già sto bene Mi fa Mamma mia Che Oh Piatto ricco Micifico Seishman 0189 Gabriele 019 Smeltub 019 Ragazzi Siamo tutti In leaderboard Oh mio Dio Siamo primi Raga Grazie mille Gabriele Grazie mille Gabriele 6.000 Grazie mille Gabriele Grazie mille Gabriele Primi E lasciatemivi dire Dire a voi insomma Che siete davvero fantastici Grazie Seimon Grazie Sono circondato da voi Che bello Questa sicura è una partita Ragazzi Questa sicura è una partita Bravi Grandi Non so quanto mi posso evitare Queste palline piccole Ma siete davvero fantastici Lasciatemi panderli Ehi No 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 Aspettate Voglio mangiarli Ehi 1 2 3 Ho fatto la cazzata Aiutatemi adesso raga Ok l'ho mangiato Sono ancora prima Non vi preoccupate Anzi ho addirittura aumentato il punteggio E quello che mi fa piacere è che Se qualcuno ha mangiato le mie robe Se siete di voi a mangiare le mie robe Punto Uh Sono andato a sbattere addosso un'altra cosa Non l'ho anche vista raga Raga Ok Gabriele non esagerare però eh Gabriele Gabriele Non è che adesso mi freghi no Chi è che è venuto addosso? Uno dei miei? Sono ancora prima addirittura Vi rendete conto? Oh Gabriele Gabriele Che fa Gabriele? Oh Che è quel coso? Ah è SmileTube SmileTube Primo? Vieni qua Smile Che torniamo primi Facciamo anche il record SmileTube Vieni qua Grande siamo tanti primi Grazie a te E siamo a 7210 Raghi siamo fortissime Non so più dove andare Perché da qualsiasi parte Andare addosso qualcuno di voi No lì c'è un Airlock Ragazzi vi ricordate L'inizio delle parti Di che ho detto Mi sarei vendicato contro Airlock Fra Gamer 019 lo saluto Beh Questo è il momento ragazzi Di vendicarsi Via tutti C'è anche BA Immagino già tutti gli altri Che saranno chiedendo Ma che è questo Coro 019 che tutti fidano Chi è quello? Non è il nome HasmailTube Perché si è andato a finire così male Dogi Anche con te Un conto di sospeso Senti ragazzi dove andate Dovete fare gli ostacoli Qui SmileTube è comunque terzo Seismon è Oddio non è che vado So qualcuno che so Vado ad andare a Leaderboard No SmileTube è terzo Seismon è Simon insomma Quinto adesso Utente è nono E quindi siamo messi molto bene Tu chi sei? Sei sempre SmileTube Sì Io vedo un gruppo di non nostri Continua a stare qua praticamente Eh raga So se stai rendendo conto Ma Io vorrei dirlo Se fossi su TeamSpeak Ve lo direi Ragazzi Muoviamoci un po' Adesso ragazzi Proverò Andare avanti Io ragazzi Vorrei superare il mio record Il mio record è stato 9900 qualcosa Vorrei Arrivare a superare I 10.000 Ce la facciamo ragazzi Mi serve il vostro Aiuttone Proprio Mi servirebbe Mangiare Di SmileTube Tipo O Simon Uuuu Se fossi stato Più vicino Dai Jamma Posso mangiarti Jamma Perché Elloc Ragazzi Ho un conto di sospeso Con Elloc Però non posso Splitarmi per sta scemenza O si No vabbè Non posso Ti ho pensato Però niente Ok Un po' all'angolo Così non mi piace Perché se becchiamo Una pallina verde Poi Non è che sei al massimo Valerione Che errore che hai fatto Intanto Ok Mamma mia ragazzi Il mio computer Stando in crisi